E su a Sanità l'operazione scattata ieri all'Ocri che ha portato in carcere il dottor Filippo Lascala, viceprimario del reparto di psichiatria e ai domiciliari il primario dello stesso reparto Antonio Bombara. Novanta i soggetti, tra i quali medici, avvocati, tecnici di laboratori ed altri pubblici ufficiali, tutti accusati di reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici, commessi all'Ocri e in altri comuni della provincia regina tra il 2021 e il 2022. Disposta inoltre la misura dell'obbligo di firma di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di Marco Zucco, Francesco Surace e Paola Larone, moglie del dottor Lascala. I magistrati hanno inoltre disposto l'interdizione alla professione sanitaria per 12 mesi per i medici Raffaele Artoni Argirò, Guido Zavettieri, Santo Gratteri, Patrizia Panetta, Maria Erminia Pascale e per l'avvocato sidernese Antonio Sottira. Per gli inquirenti all'Ocri la tangente era una pratica consolidata. Emergeva, dice il GIP, una consolidata pratica della tangente, ossia la tendenza ad un diffuso mercanteggiamento della funzione pubblica, nota ai privati che sapevano di poter conseguire certificazioni compiacenti. Alcuni dei 90 indagati, gente comune, sono state contestate alcune fattispecie corruttive o di confine come ad esempio l'induzione a dare o promettere utilità in un sistema corruttivo che all'interno dell'ospedale dell'Ocri era ormai consolidato. Figura di primo piano è il vice primario del reparto di psichiatria Filippo Lascala che si autodefiniva il addio dell'inganno, confessando che un falso così spudorato solo il padeterno lo avrebbe fatto. Denigrava poi i suoi colleghi che si limitavano, dice, a false ricettelle. Lui invece, dalle intercettazioni, dichiara Il dottor Lascala ti regala 10.004 in tre anni, sono 10.004, 10.004, sono 31.000 euro, diceva lo suo paziente. Il dottore Lascala, continua ancora nelle intercettazioni, ti dà un assegno di 31.000 euro E' più forte il dottore qua che ti dà 31.000 euro o quello con un'ecografia di 50 euro? Oppure quello che ti dice a ricettella? Per i pazienti poi, Lascala era un missionario. Dottore, voi ci avete permesso di non lavorare più a vita.